ore 16 autocommigiorazione 16 e 30 fissare il muro ore 17 risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno 17 e 30 ginnastica 18 e 30 a cena con me questo non lo posso rimandare ancora ore 19 lottare contro il disprezzo per me stesso l'agenda è piena